E' buona tutti abitati ma sono Mr.Dilan e sono qua hanno visto un vlog ragazzi in questo vlog ragazzi parlaremo ragazzi come è stato tutto il 2019 ragazzi allora ragazzi il 2019 ragazzi è stato un anno davvero bellissimo perché ragazzi abbiamo raggiunto i 3000 come vedete qua che abbiamo raggiunto i 3740 iscritti Grazie ragazzi a voi a voi ragazzi che si cuore e come ragazzi iscrivetevi e lasciate un bel like ragazzi perché ragazzi nel 2020 che si miglioriamo un sacco di cose perché ragazzi il mio canale l'ho aperto ragazzi andiamo subito a vedere allora il mio primo video ragazzi che ho pubblicato su questo canale allora 10 agosto 2018 ragazzi quindi gg comunque ragazzi lasciate un bel like ragazzi che quest'anno ragazzi abbiamo fatto un sacco di cose che sono un sacco di iscritti ragazzi vi voglio un sacco bene Ragazzi qua ragazzi comunque ragazzi cosa miglioreremo ragazzi nel 2020 nel 2020 ragazzi volevo ragazzi che amplirà ampliare il mio canale non solo portare forte Ma portare anche altri giochi ragazzi scrivetemi che giochi volete che porti io avrei pensato ragazzi di portare Fortnite, Minecraft, GTA, Roblox Roblox e altri giochi ragazzi che adesso non mi vengono a mente Tutorial anche e vlog giornalieri Se vi va ragazzi ditemi cosa ne pensate sotto nei commenti Comunque ragazzi detto questo che ragazzi anche nel 2020 voglio anche portare i giochi di Switch perché voglio anche fare i giochi della Nintendo Switch Come un po' come spada e quei rovi giochi la molto figo ragazzi che le voglio portare sul canale Comunque ragazzi allora nel 2020 ragazzi come sapete uscirà la nuova legge ragazzi che si abbatterà sul YouTube Allora è una nuova legge che si abbatterà sul YouTube ragazzi è la legge Coppa La che cosa ragazzi consiste in questa legge Coppa? La legge Coppa ragazzi dovrebbe proteggere i bambini sotto i 14 anni Dalle pubblicità e robe così dalle influencer che dicono solo per bambini E quei canali portavano a morire Però ragazzi noi cioè quindi tipo devi se tipo tu voi ragazzi caricate un video Se voi caricate un video su YouTube ragazzi dovete scegliere se quel video è per bambini o no Tipo non so fare un paragone però ragazzi non so ancora niente di questa legge Vediamo ragazzi come sarà perché questa legge ragazzi sarà anche peggio ragazzi della legge dell'articolo 3 Sarà molto peggio Non so ragazzi come sarà quindi ragazzi voglio ampliare il mio canale Potrò un sacco di video belli molto editati ragazzi coppettino è bellissimo perché voglio anche ragazzi Voglio anche migliorare ragazzi il canale con le grafiche e le coppettine perché le coppettine si sono carine ma le voglio fare Ancora più fighe che attirano più persone e anche più video che più interessanti Ci credo di fare video più interessanti Comunque ragazzi questo sarà il mio obiettivo per il 2020 ragazzi Iscrivetevi ragazzi cosa volete fare voi per il 2020 Ok questo sarà uno dei penultimi video Il pen penultimo video del 2020 ragazzi Grazie davvero ragazzi per chi è stato connesso con noi Ragazzi vi voglio un sacco bene Mi raccomando tutti attivi E bella ragazzi Ciao